Siamo con Luigi Lucchetta, seconda generazione della famiglia alla guida del gruppo Euromobile e chiediamo subito come mai avete sentito l'esigenza di avere una vetrina proprio in una delle arterie principali del design italiano ma anche internazionale? Beh, sicuramente avere un Flexi Store in Milano che è la città più importante al mondo nel design è una vetrina internazionale da un punto di vista dell'export E voi, come siete un gruppo veneto ma che avete un grandissimo potenziale a livello internazionale per voi le vendite e l'export è molto importante? È chiaro, credo così come per tutte le aziende italiane lavorare in campo internazionale è fondamentale perché portare il lifestyle nel mondo chiaramente è la chiave di successo di un'azienda italiana In quali paesi siete presenti? Beh, siamo presenti in vari paesi Cina, Russia, America, Europa chiaramente, India, quindi un po' in tutti i paesi con tutte e tre le aziende del gruppo quindi Euromobile Cucine, Zalmobile e Desiree Divano E per questo progetto, Flexi Store, qui a Milano avete scelto un studio molto noto che è lo studio Matteo Tum Milano Com'è mai questa scelta? Beh, perché qualche anno fa abbiamo iniziato una collaborazione con lo studio Matteo Tum e Antonio Rodriguez con Desiree Divane Io fondamentalmente seguo più l'imbottito e quindi avendo conosciuto lo studio e soprattutto come lavora lo studio Matteo Tum ma quello che ci sta dietro, quindi i valori che ha e sono quelli dell'utilizzo di materiali naturali l'ecosostenibilità e il design, la passione e l'amore abbiamo deciso di dare in carico a questo studio Soddisfatto? Assolutamente sì Allora entriamo nel merito di questo progetto e vediamo appunto come è nato questo spazio Bello, eh? È molto bello Vabbè, più bello da questa parte Quando Euromobile ci ha commissionato il progetto del loro showroom del primo loro showroom a Milano in centro a Milano, zona storica noi abbiamo capito subito che cosa dovevamo fare fare uno spazio molto neutro neutro non vuol dire che non ha personalità deve avere la personalità ma in un modo molto cauto, molto tranquillo senza dire io sono qua perché è il prodotto che deve vedersi, non noi questa è la base perché loro hanno diversi tipi di prodotti hanno dalle cucine all'imbottito doveva funzionare sempre qualsiasi prodotto loro volessero esporre lì doveva funzionare Benvenuti a questo incontro dedicato all'arrivamento al design siamo nel nuovo spazio di Euromobile società fondata quasi 50 anni fa in Veneto che oggi inaugura ufficialmente il suo flagship store nel cuore di Milano e siamo in compagnia con alcuni ospiti Matteo Tuma, la mia sinistra architetto designer di Chiava Fama che insieme a Antonio Rodriguez hanno ideato questo spazio e il loro studio, Antonio Tum in Milano collabora con i marchi più prestigiosi tra cui il gruppo Euromobile e collabora da oltre 30 anni con il gruppo Euromobile Roberto Gobbo a destra è un architetto è un architetto director dei prodotti di Euromobile appunto oltre a Euromobile Desiree e Zalf idea i prodotti ma anche l'allestimento degli showroom e delle fiere italiane e internazionali e proprio da Roberto Gobbo iniziamo e chiediamo come mai avete sentito questa esigenza di aprire una finestra uno spazio così importante in un'arteria così chiave per il design italiano qui a Milano Milano è la capitale del design nel mondo quello che succede a Milano durante il Salone del Mobile in aprile purtroppo quest'anno non c'è stato per le ragioni che tutti conosciamo è un evento straordinario e tutto il mondo ci invidia questo evento i fratelli Lucchetta che sono i fondatori di gruppo Euromobile da parecchio tempo avevano questo obiettivo cioè creare uno spazio che fosse fortemente rappresentativo dell'azienda dei valori aziendali e di conseguenza del prodotto questa situazione si è creata un paio di anni fa dovevano convergere tre situazioni tre condizioni la prima che lo spazio fosse in una certa area della città ci sono come noto aree del design a Milano che lo spazio fisico si prestasse come metratura e anche come fisicità come volumi a contenere il prodotto e poi una terza condizione che era ovviamente la sostenibilità economica questa situazione si è creata appunto e poi l'azienda ha pensato di dare il progetto di questo spazio del contenitore allo studio appunto Matteo Thun e Antonio Rodrigues studio con il quale l'azienda già da qualche anno collabora a dei prodotti per Desiree Divani l'obiettivo di questo spazio è che oltre che appunto rappresentare in maniera compiuta e completa la produzione soprattutto di Euromobile ma in realtà poi ci sono delle piccole contaminazioni di Zalfa Mobili e Desiree Divani l'obiettivo era quello di creare uno spazio aerodinamico dove possono accadere anche degli eventi durante l'anno soprattutto in parallelo al salone del mobile ma anche in altri momenti dell'anno oltretutto l'obiettivo appunto è che intanto in questo spazio c'è una cucina funzionante quindi si potranno realizzare degli show cooking ma anche presentare delle pubblicazioni di design o appunto di arte su questo tema poi c'è tutto un ragionamento che si potrà fare del rapporto arte e gruppo Romobile vorrei dire un'ultima cosa che il gruppo Romobile è una bellissima storia di imprenditoria italiana nata nel nord-est negli anni 60 70 sappiamo che il nord-est è stato interessato in quel preciso momento da un progresso notevole che è stato che ha creato un modello internazionale e grazie appunto alla lungimiranza e alla determinazione di Fratelli Lucchetta è nato un gruppo importante oggi è un gruppo che nel mondo del design ha una chiara visibilità e una chiara forza tuttora il gruppo è condotto dai fratelli Lucchetta un caso familiare un caso di successo è a voi il mandato di progettare questo spazio come avete pensato agli ambienti come li avete suddivisi se sono suddivisi prima di tutto erano due botteghe una a sinistra di questa linea una a destra era la possibilità di lavorare su un contenitore che rispettasse il contenuto quindi il vero tema è quello di analizzare il DNA del marchio Aeromobile per definire un contenitore il più anonimo il più neutro possibile e devo dire che Antonio insieme ad Elisa dello studio hanno fatto un lavoro fantastico perché hanno rispettato oltre al DNA del marchio anche il DNA della zona del territorio e questo spazio ci sono dei concetti chiave attorno a cui avete ideato ce li potete raccontare vabbè soprattutto la neutralità come diceva prima Matteo qua noi dobbiamo vendere un prodotto non vendere lo spazio o il nostro studio allora cercando quella neutralità perché teniamo conto che qua vendono il gruppo Aeromobile ha cucine ma ha anche imbottiti ha anche cabine armadio e sicuramente questo dovrà cambiare qua la nostra idea è di mettere un vassoio dove mettere al meglio il prodotto il prodotto può cambiare magari magari anche dopo diventa un negozio di abbigliamento perché no può funzionare anche in quella direzione questo è stato molto importante come concetto basilare e poi ho visto che avete lavorato anche con concetti come la luce che è importante e questo l'abbiamo visto dall'inizio per trattare anche questa neutralità ci piaceva molto di non mettere pareti di fare uno spazio molto aperto che già dall'ingresso si vedesse anche il cortile che abbiamo lì che è pieno di verde questo è stato molto dall'inizio l'abbiamo capito questo non lo possiamo fare non lo possiamo schermare quindi è una cosa che chiunque può ammirare e godere anche di questi spazi verdi sì anche che è molto milanese allo stesso momento abbiamo il cortile anche i materiali che abbiamo usato comunque sono sempre che appartengono a diverse zone che magari dopo Matteo vi può parlare anche di quello appunto i materiali arrivano da diverse zone perché abbiamo parlato di un'azienda che ha quasi 50 anni di storia che arriva dal Veneto e quindi è un negozio non è un negozio è uno spazio un plexi store in pieno centro a Milano ma che non può trascurare le tradizioni le origini e in questo spazio si vedono ce ne può parlare in questo spazio si vedono il terrazzo è un'invenzione veneta i vari trattamenti di materiali il marmorino lo spatolato sono tutte cose che vengono da quella zona so che Roberto viene da Treviso che è una delle città più belle del mondo non solo d'Italia per quale motivo perché vive di materia vive di matericità che in questo caso non contamina la presenza in questo caso di cucine ma anche di altri oggetti che in futuro il gruppo Aeromobile presenterà quindi il dialogo tra contenuto e contenitore è il vero tema sul quale ci confrontiamo oggi giustamente Antonio dice guai guai a vedere il linguaggio di uno studio guai a vedere il linguaggio di un architetto di un progettista i progettisti per esempio Roberto con le sue cucine è lui che deve vendere mica vendi lo spazio e Antonio questa ricerca i materiali con questo richiamo delle tradizioni quanto è stato importante? molto diciamo come diceva Matteo tutto questo seminato viene da lì ma allo stesso momento è tipico delle case milanesi borghesi allora abbiamo trovato questo punto di unione tra l'origine dell'azienda con la situazione dello showroom ovviamente l'abbiamo fatto in un modo molto più contemporaneo anche molto più neutro allo stesso momento cercando sempre colori molto molto gradevoli nei colori troppo stridenti al contrario sono magari qualche accento con questi colori che abbiamo dietro che vediamo in questo momento con questo ambra che ci fa passare la luce ma ci dà anche un tocco di colore in una città come Milano la luce è la cosa più ricercata esatto e poi diciamo che qui in Euromobile ci sono cucine vediamo ammiriamo bellissime cucine ma la cucina diciamo il concetto di cucina cambia perché rispetto alla tradizione che aveva una funzione specifica adesso la cucina è proprio un ambiente ci puoi raccontare come è cambiato il concetto di cucina oggi ci sono tante cucine quanti esseri umani ognuno vuole la sua cucina io vorrei dire una cosa che mi sta molto a cuore la storia d'amore per Euromobile nasce da un concetto estremamente sano in quella zona che è value for money mi spiego meglio se spendo X per la cucina devo spendere il giusto non posso spendere tanto quanto senza fare nomi spendo per una casa intera ci sono aziende con tutto rispetto dove spendi per la cucina tanto quanto per una casa io invece credo che Euromobile è un'azienda che ha un grande futuro perché più che mai vogliamo spendere il giusto value for money e rispetto all'ambiente come una famiglia vive la cucina oggi è cambiato? è cambiato perché la mamma lavora il papà lavora i figli sono a scuola se non c'è il virus in mezzo quindi la cucina sta diventando pur essendo il centro della casa un oggetto moderno flessibile che deve funzionare rapidamente nel suo cambio io credo che Roberto può raccontarlo molto meglio Roberto può raccontarlo molto meglio ma Roberto Gobbo ha firmato disegnato e progettato delle cucine che noi vediamo qua in questo la gestora ce le puoi descrivere? ce le puoi descrivere? Sì intanto vorrei dire che sono perfettamente d'accordo con Antonio che ho già parlato altre volte e con Matteo però non ce l'avamo mai parlati quindi i concetti che hai appena espresso sono pienamente condivisibili questo attaccamento alla cultura veneta volevo anticipare ancora una cosa e poi vado alla domanda si riflette anche nelle aziende le tre aziende del gruppo hanno solide radici nel trevigiano e anche la filiera ormai sappiamo un'azienda che produce mobili è frutto di un percorso di una filiera che parte a Monte con un gruppo di fornitori e poi a Valle nel punto vendita ha sempre avuto determinate caratteristiche soprattutto in un periodo come questo dove la globalizzazione è stata messa a dura prova certi valori che l'azienda ha sempre ricercato hanno avuto insomma una grande prova di successo ecco venendo alle cucine prima Antonio parlava di neutralità e di assenza di partiture all'interno dello spazio proprio per questo concetto di neutralità che esprime ancora meglio quello che è il concetto che noi abbiamo e stiamo perseguendo oggi con le nostre cucine che nascono appunto da uno studio di progettazione interno all'azienda poi con la collaborazione di vari architetti e progettisti che è quello del mobile che diventa architettura il mobile che può articolare lo spazio che può dividere lo spazio oltretutto poi si parlava prima di come è cambiata la cucina oggi abbiamo la cucina diventata uno spazio per cucinare è diventata anche uno spazio di lavoro perché poi chi la frequenta o perché ci sono dei figli e quindi c'è la didattica a distanza per cui ormai la casa è tutto un home working home learning home working ecco e le cucine che sono presenti in questo spazio la cucina che è nelle nostre spalle è la cucina 6 disegnata da Mark Sadler progettista con il quale l'azienda ha da diversi anni una collaborazione e poi ci sono altri due sistemi che si chiamano Telero e Antis che hai progettato tu che ho progettato io con l'azienda e i concetti di queste due di queste due cucine sono quelle di interpretare in maniera sintetica le due fasi che avvengono in una cucina che sia separata dal resto della casa o che sia a contatto con il resto della casa che sono la fase della preparazione del cibo e la fase della sua consumazione la fase della preparazione è ovviamente la cucina diventa un laboratorio quindi c'è disordine c'è caos perché ci sono ingredienti ecco come in un palcoscenico come in un set tutto questo deve cambiare velocemente per arrivare invece a quella che è la consumazione del cibo quindi a ricreare invece un'atmosfera che possa favorire la conversazione e il dialogo e in Telero e in Antis ci sono degli elementi che scorrono e quindi mi riferisco ad esempio a questo elemento che stiamo vedendo in questo momento che è un pannello che scorre o altri elementi che salgono e scendono e quindi lo scenario può cambiare velocemente e nascondere il disordine ecco quella che vediamo è un'anta la parte scura che scorre e non ha guide né a pavimento né a soffitto quindi si presta a essere collocata in qualsiasi spazio senza bisogno di intervenire fisicamente sullo spazio EuroMobile il gruppo è molto sensibile all'arte made in Italy design arte e anche è molto sensibile ad essere vicino e ai giovani ci puoi raccontare quali iniziative rispetto a queste queste tematiche ha organizzato il gruppo in questi quasi 50 anni di storia tutto questo nasce dalla grandissima enorme passione che i fratelli Lucchetta hanno sempre avuto per il mondo dell'arte è una cosa che è cominciata piano piano frequentando artisti della provincia di Treviso e poi nel corso dei decenni possiamo parlare di un record in questo momento qui vediamo la piramide del Louvre dove Grupero Mobile ha sponsorizzato una mostra di disegni di Leonardo e in questi decenni Grupero Mobile ha sponsorizzato o promosso o organizzato oltre 500 mostre in Italia e nel resto del mondo ma la cosa molto interessante è che non ha guardato solo a un certo periodo o a certi artisti ha guardato all'arte antica ha guardato all'arte moderna attraverso le mostre degli impressionisti le mostre su Van Gogh e guarda con molta attenzione all'arte contemporanea ma non solo ai grandi maestri ma anche ai giovani per 12 anni il gruppo Romobile è stato main sponsor di arte fiera a Bologna e durante questa fiera anche qui vediamo delle immagini e durante questa fiera ha promosso un premio Under 30 quindi giovani che erano presenti all'evento alcuni di questi tra l'altro stanno riscontendo notevole successo nel panorama artistico internazionale e dunque abbiamo detto attraverso lo studio che ha progettato questo spazio che c'è uno spazio neutro ci sono i prodotti di Euromobile c'è anche del verde ma si terranno anche degli appuntamenti dentro questo Flexi Store ci puoi dire già cosa succederà si terranno degli appuntamenti ce n'era uno programmato che purtroppo non si è potuto tenere e infatti per quell'occasione è stata realizzata un'opera site specific dell'artista ormai italiano d'adozione che è Jorrit Tornquist Jorrit Tornquist è un maestro dell'arte contemporanea molti forse lo ricorderanno per il progetto cromatico del termovalorizzatore a Brescia che si vede lungo l'autostrada è un progetto straordinario un monolite che dialoga con l'atmosfera ed è una cosa straordinaria perché non è nulla è una semplicissima forma e con lui c'era il programma ma questo è solo un evento rinviato poi naturalmente ci saranno presentazioni di libri d'arte presentazioni di libri di design e c'è questa volontà di rendere questo spazio molto molto dinamico e molto fluido non ci resta che dare appuntamento a tutte le persone che vorranno visitare questo flash store che ufficialmente è stato inaugurato con questa presentazione e potrà venire qui dal martedì al sabato dalle 10 alle 14 dalle 15 alle 19 e dunque potrà ammirare le cucine Euromobil ma anche gli altri prodotti del gruppo che sono Desiree e Zalfa intanto io ringrazio moltissimo Matteo Tum per il suo prezioso contributo Antonio Rodriguez grazie e Roberto Gobbo per averci illustrato la storia di questa azienda grazie e l'appuntamento alla prossima volta e buona serata grazie 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 grazie